Buongiorno, ben trovati, primo appuntamento del 2019 con la nostra consueta Rassegna Stampa. Buon anno a tutti dalla nostra redazione, mercoledì 2 gennaio, apriamo come sempre con le prime pagine dei quotidiani abruzzesi. Iniziamo con il centro su tutte le edizioni, si parla della scossa di terremoto che c'è stata ieri pomeriggio nella Marsica, epicentro a Collelongo, sisma 4.1, torna la paura in Abruzzo, ad Avezzano cinema evacuato, controlli su viadotti e ferrovie. Fortunatamente nessun danno è stato segnalato a persone o cose. Vediamo in alto, autostrade abruzzesi, pedaggi della A24 e della A25, blocco fino a giugno e si continua a trattare. E poi di fianco si parla di politica, il voto in Abruzzo, il 10 febbraio si andrà alle urne, settimana decisiva per nomi, liste e alleanze. Poi ambiente a rischio di scarica di bussi, ecco lo studio sulle criticità. Primo dell'anno, senegalese e pescarese, ecco il primo nato a Pescara, il piccolo Mohamed. Vediamo anche le notizie, ancora Pescara, aria di risulta in arrivo altri superconcerti dopo i due concerti che ci sono stati a Capodanno e nella giornata di ieri. E poi l'arrivo del freddo, del gelo anche a Pescara, da domani prevista neve sul capoluogo adriatico. E poi asse attrezzato, rampe d'accesso sotto controllo. La cronaca ci porta a Città Sant'Angelo, precipita dal balcone durante la festa. Ragazzo grave in ospedale dopo il volo dal secondo piano. Andiamo a vedere la prima pagina del centro, edizione di Chieti Lanciano Vasto. Ritroviamo il titolo sulla scossa di terremoto di ieri e poi anche la fotonotizia su Aurora, la prima arrivata nel Chietino, nata all'ospedale San Pio di Vasto. E poi Chieti, salvo sui monti, dopo due notti nel ghiaccio, il racconto dell'escursionista ha bloccato il bivacco fusco sulla Maiella a 10 gradi sotto zero. Ancora a Chieti la politica, in questo caso parla il sindaco di Primio, sarà l'anno nuovo dei grandi lavori. Da Chieti ci spostiamo a Guardiagrele, dalla Torretta cadono massi e chiusa la strada. Vediamo la cronaca che invece ci porta a San Salvo, pedardo nell'abitacolo, autolo in fiamme. San Salvo, vandalinazione in centro, a Vasto Brucio, un furgone fermo da giorni. Vediamo anche la prima pagina di l'Aquila Vezzano sul Mona del centro. Ritroviamo ovviamente, soprattutto in questa edizione, sempre la notizia della scossa di terremoto ieri con Epicentro a Collelongo. E poi l'Aquila, troppi in discoteca, la polizia la chiude. Blitz, dopo una denuncia, salta il concerto di Capodanno al castello. Ancora l'Aquila, in arrivo due isole ecologiche intelligenti. Ci spostiamo poi nella Marsica, Trasacco, furti al cimitero, messi a segno da ladri sciacalli. Da Trasacco andiamo in Valle Peligna, sul Mona, ponte Capograssi, al via, verifiche sulla stabilità. Lasciamo anche questa prima pagina del centro per andare a vedere quella di Teramo. 5.000 in piazza per meta, almeno 3.000 restano fuori il Capodanno Teramano. E poi l'Acqua del Gran Sasso, la procura, negligenze da Ruzzo e dall'Istituto Nazionale di Fisica. Vediamo poi Giulianova, lite a Capodanno, giovane ferito da una coltellata. E poi il calcio, lo sport, perché i campionati si fermano per le vacanze, ma lavorano le società, in particolare i dirigenti, per il mercato. E a Teramo arriva Giorgi, in uscita bacio Terracino Giorgi, 31enne, centrocampista ex Ascoli. Vediamo anche un'altra notizia che riguarda l'ufficio della ricostruzione che ha il nuovo direttore generale. Si tratta di Rivera, via d'Alberto, il direttore generale della regione, sarà un reggente temporaneo. Andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del messaggero. Il 2019 inizia con il terremoto, vedete il titolo di apertura. La scossa alle 19.37 di ieri, di magnitudo 4.2 della scala Richter a Collelongo nella Marsica, avvertita in tutta la regione fino a Roma. Non si segnalano danni, gente in strada. Vediamo poi il Consiglio regionale, bilancio approvato nel giorno di Capodanno, non sono mancate le polemiche. E poi in alto, neve, tutto esaurito in montagna fino al weekend dell'Epifania. E poi pedaggio a 24 e a 25, salta la trattativa, ma strada dei parchi blocca i rincari. E poi lo sport, Pescara è scoppiata, la Mancuso Bomber Mania. L'attaccante è già della Juventus, ma sta trascinando il Delfino a suon di gol. Tripletta nell'ultima gara di Salerno, 12 fino ad oggi, gol segnati dall'attaccante di origine milanese. Parliamo di cronaca, cade dal balcone durante il veglione grave, un 22enne a città Sant'Angelo. E poi la celanese Caterina, prima nata in Abruzzo all'ospedale di Avezzano. Vediamo anche la prima pagina del quotidiano La Città, un triunvirato alla guida dell'USR, questo è il titolo di apertura. La regione fa fuori d'Alberto, al suo posto i tre dirigenti regionali, Rivera, Misantoni e Jovino. Vediamo poi a centro pagina, Teramo, meta chiude col botto, tre giorni di eventi in piazza. Il capodanno della rinascita, da anni non c'era un Natale così, commercianti teramani soddisfatti proprio degli eventi di fine anno. Vediamo anche un altro titolo in basso, Fiocco Azzurro, Angelo e primo nato teramano nel 2019, l'ospedale Mazzini di Teramo. Lasciamo le prime pagine dei quotidiani abruzzesi, andiamo a vedere l'edicola nazionale, l'apertura come sempre dedicata al Corriere della Sera, con i richiami del Presidente Mattarella, il discorso di fine anno, boom anche in televisione e sui social. La sicurezza nasce, ha detto il Presidente della Repubblica, dalla convivenza, basta insulti e astio sulla manovra, verifiche e confronto, no alle tasse, sulla bontà. E poi il giuramento oggi del nuovo Presidente del Brasile, Bolsonaro, il leader sfida con la moglie, Michelle, vedete nella foto. E poi la linea dura del Movimento 5 Stelle, tensioni e quattro espulsi, incontro sulla neve tra Di Maio e Di Battista. E dunque ci sono state delle espulsioni nel Movimento 5 Stelle, siamo a Repubblica, Mattarella sfida il Movimento 5 Stelle e la Lega, no all'odio, serve più dialogo. E poi vedete anche, come sul Corriere della Sera, anche su Repubblica, Brasile, Bolsonaro sul trono e Trump festeggia. Vediamo anche il prossimo quotidiano, che è il Fatto, Di Battista aiuterà il Movimento 5 Stelle all'Europa e poi via in Congo, tandem col Vice Premier fino al voto per recuperare sulla Lega e da giugno i nuovi reportage dall'Africa. Vediamo poi a centropagina un altro titolo, ecco i boiardi dei gialloverdi, alcuni nuovi, ma molti riciclati, sette mesi di nomine, scrive il Fatto Quotidiano, da Anas a Ferrovie, da Cassa Depositi e Prestiti a Sogei e Agenzia delle Entrate. Vediamo l'altro giornale prossimo quotidiano, che è il Messaggero Nazionale, pensioni maxi esodo degli statali, tra chi ha requisiti e 400 in uscita, 200 mila dipendenti, nodo ricambi per 40 mila. E poi vedete anche sul Messaggero, Mattarella a fondo sulla sicurezza, appello per fermare l'odio e gli insulti. E poi anche sul quotidiano romano si parla dell'incoronazione del Presidente, il neopresidente che si è insediato ieri e da oggi ufficialmente alla guida del Brasile, il Presidente Jair Bolsonaro, che vedete sfila lungo le principali strade della capitale a fianco della moglie. Siamo al sole 24 ore, manovra ora 161 decreti per attuarla, questo è il titolo che troviamo nella parte alta della prima pagina del quotidiano economico. E poi vedete un altro titolo, il faro che indica la strada e la centralità del Parlamento, questa è la lettera scritta dal Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, al sole 24 ore. Vediamo anche il mattino di Napoli, reddito i paletti antifurbi, quota 100, allarme primari. E poi vediamo un'altra notizia che riguarda il quotidiano napoletano, rifiuti, stangata sui trasferimenti fuori Campania. Andiamo avanti, vediamo Libero, più che una manovra è una marcia indietro. Svilite le promesse del Governo, scrive Libero e poi il manifesto, Mattarella argine contro il cattivista, gli auguri del cole. Poi gli ultimi dell'anno, ancora in mare dopo 11 giorni con clima avverso e a rischio malattie, denunciano i medici. 49 naufraghi salvati da due ONG tedesche non trovano un porto per accoglierli, rifiutati da Italia, Grecia e Spagna. Londra e Parigi blindano la manica contro l'aumento degli sbarchi. Il secolo.it, bastia odio e insulti, per Mattarella in Italia oggi c'è l'esigenza di sentirsi e di riconoscersi come una comunità di vita, ha detto il Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno. La stampa di Torino, subito scontro fra Salvini e Di Battista. I grillini tagliano lo stipendio dei parlamentari, immediato no della Lega, che invoca il contratto. E poi vediamo più in basso un altro titolo che riguarda il quotidiano torinese. Autostrade congela gli aumenti sul 90% della rete e questo congelamento degli aumenti, l'abbiamo visto prima, riguarda anche le autostrade a 24. E a 25 il tempo, altro quotidiano romano, il Buonanno di Roma. Vedete questa foto emblematica con i rifiuti fuori dei cassonetti, in una strada della Capitale. Vediamo anche il quotidiano La Verità. Il mago del Papa non riesce il primo trucco, scrive La Verità. Il caso Viganò non si è mai chiuso. E poi il Premier Conte parla a panorama, così ho vinto il braccio di ferro con Juncker. Si parla ovviamente dell'accordo tra l'Unione Europea, il Parlamento Europeo e l'Italia per evitare le sanzioni dell'Europa nei confronti del nostro Paese. Avvenire il quotidiano della CEI, l'impegno di tutti per fare comunità, consonanze nei messaggi di fine e inizio anno del Presidente della Repubblica, del Papa e dei Vescovi. E poi vedete anche il quotidiano della CEI, parla in questo articolo con corredo di foto dell'odissea di Capodanno, 49 vite lasciate a Bagnomaria e i governi non aprono i porti ai migranti salvati dalle ONG. Avvenire era l'ultimo quotidiano dell'edicola nazionale ogni lunedì. Alcuni quotidiani non escono e dunque ce ne sono meno rispetto agli altri giorni. Andiamo a vedere ora il centro, ritorniamo alle vicende abruzzesi. Partiamo da pagina 2, ovviamente la politica in primo piano Abruzzo verso il voto regionale. Ultimi giorni per chiudere liste e alleanze. Vedete settimana decisiva per la candidatura di Di Stefano, Turra Abruzzese e Di Salvini che sarà in Abruzzo il 4 e il 5 di gennaio. Dunque dopo domani e poi sabato e intanto Legnini aspetta nuovi arrivi. Vediamo anche la risposta di Fratelli d'Italia a Benigno Dorazio che aveva chiesto tramite una lettera al presidente di Fratelli d'Italia Meloni di ripensarci su Marsiglio di cambiare il candidato presidente per il centro-destra. Dorazio che avevamo portato anche ai nostri microfoni due giorni fa è arrivata la replica seccata di Fratelli d'Italia nei confronti di Benigno Dorazio. Emiciclo non riesce la spallata sul bilancio, il documento di previsione approvato con i 16 voti della maggioranza. Polemica, Marsilio Paolucci. E poi garanzia lavoro, il 7 di gennaio dell'ultimo giorno chiude in anticipo la linea 2 dell'avviso per quanto riguarda proprio garanzia lavoro. Andiamo a vedere la vicenda dei pedaggi dell'autostrada, come abbiamo detto è stop ai rincari ma si continua a trattare. Strada dei Parchi annuncia il blocco fino a febbraio, il Ministero lo prolunga a giugno, aumenti sospesi anche sull'autostrada adriatica a 14. Intanto in basso non si ferma la protesta dei sindaci, si tinde i primi cittadini al casello dell'Aquila Ovest l'ultimo dell'anno. Servono soluzioni definitive, hanno detto i sindaci dei comuni, delle aree interessate proprio al transito delle autostrade. Siamo alla pagina che riguarda ancora un'altra pagina, che riguarda la nostra regione, ambiente a rischio, mega discarica di bus. Ecco dove sono le criticità, lo studio dell'Agenzia Sanitaria regionale tranquillizza sull'aspetto della salute ma mette in guardia da incidenti che potrebbero liberare le sostanze inquinanti. Vediamo poi in basso lavoro, un anno di vertenze in Abruzzo tra Oniwell e Labol, sono state alcune delle vertenze più significative sul fronte occupazionale nella nostra regione. Allora siamo alla cronache dalle nostre province, partiamo da Pescara, dal dramma di Capodanno, dall'incidente accaduto nella notte tra il 31 di dicembre e il 1 gennaio. Il figlio cade dal balcone dopo la festa e grave città Sant'Angelo, il giovane pescarese si trovava con i fratelli e fidanzati abbattuto alla testa, operato, sottoposto nella nottata di ieri in una delicata operazione e ricoverato in coma farmacologico nel reparto di rianimazione dell'ospedale civile Santo Spirito di Pescara. Ancora cronaca, Villanova, incidente stradale anziano di 86 anni ricoverato in prognosi riservata sempre all'ospedale di Pescara e sempre all'ospedale di Pescara è ricoverato un uomo che è rimasto ferito alla mano mentre stava facendo esplodere dei botti di Capodanno. Andiamo ancora avanti, ondata di gelo, neve in arrivo in città da domani, se ne sta parlando da diversi giorni, da domani arriverà la neve nella nostra regione anche in città. Scatta la gara di solidarietà, sono già al caldo, 21 senza tetto, i cittadini portano coperte e cibo. E poi vediamo anche più in basso, più forze per il verde in servizio, quattro nuovi giardinieri che hanno firmato in comune a Pescara. E sempre a Pescara bilancio positivo per i concerti di Capodanno del 31 e del 1 gennaio, area di risulta superata la prova dei grandi eventi. E poi infrastrutture, sicurezza, quattro ponti sotto controllo in provincia di Pescara, il comune affida uno studio sulle condizioni dei viadotti cittadini e delle rampe di accesso all'asse attrezzato per valutare eventuali lavori. Vediamo poi ancora via del San Duario cambia volto, posti auto tra i platani e più luce, siamo nella zona dei colli di Pescara. Vediamo anche in basso, poste da domani le pensioni, ecco gli sportelli disponibili, pagamenti di gennaio delle pensioni. Ritorno al passato, facciamo ripartire in città i consigli di circoscrizione, i vecchi consigli di quartiere, proposta in Parlamento per la ricostituzione dei municipi, ricordi e gli aneddoti degli ex amministratori di quartiere. Vediamo ancora un'altra pagina, riguarda i primi nati nella nostra regione, a Pescara e Mohamed a battere tutti, il primo nato del 2019 di famiglia senegalese ha preceduto due bimbe pescaresi, Melissa e Zoe. Adriano Sferrella è stato l'ultimo piccolo a venire alla luce lo scorso anno. Vediamo poi di vedere anche in basso il classico bagno in mare per 17 temerari, la tradizione di Capodanno, tuffo e corsa per ricordare anche il ragazzo Roberto Straccia, scomparso qualche anno fa da Pescara e altri podisti che sono scomparsi negli ultimi anni. Siamo alla pagina di Montesilvano, sempre dalle colonne del centro, nuovi servizi, tre ascensori in funzione alla stazione ferroviaria, gli impianti elevatori mai esistiti allo scalo di Montesilvano sono già operativi. Il presidente dell'associazione mette in primo piano la lotta per l'affermazione e l'abbattimento delle barriere architettoniche dice che la nostra lotta non è solo per i disabili ma per tutti i viaggiatori. E intanto anche a Montesilvano ci si prepara al maltempo Piano Neve pronto a partire il centro operativo comunale, il COC, in caso di bisogno, come detto in arrivo il maltempo dalla nottata, assistenza a persone in difficoltà, due su tre sono donne, siamo sempre a Montesilvano, ecco i dati del pronto intervento sociale 2018, stanziati 35 mila euro per bolletti, affitti e menze scolastiche. Il sindaco Maragno, sindaco di Montesilvano, rivolge un grazie ai vigili urbani per il capodanno sicuro. In basso ancora Montesilvano, teatro dialettale per acquistare un bisturi elettronico. Siamo a Francavilla al mare, stazione mobile di vigili per sorvegliare i quartieri. La nuova vettura è dotata di computer stampante, postazione radio, la pattuglia con due agenti, opererà anche da punto di ascolto. Per i cittadini è stata presentata nei giorni scorsi, vedete nella foto, il sindaco di Francavilla, Antonio Luciani. Vediamo anche un altro articolo che ci porta invece a spoltore, la natività di Cavaticchi. Potrebbe diventare un film, dunque il presepe vivente di Cavaticchi che avevamo presentato in un servizio anche dei nostri Tg potrebbe trasformarsi anche in un film. Scuola soppressa e polemica a Pianella, D'Ambrosio accusa il comune. Marinelli risponde, il primo cittadino, non ci sono alunni a sufficienza per la media di Cerratina. Ancora Francavilla al mare, sul lungomare è stato inaugurato il monumento che ricorda Aldo Moro, lo statista della democrazia cristiana e la scorta. Andiamo ancora avanti con un'altra pagina, ci porta in provincia di Pescara, nell'area Vestina e nell'alta Vallo Pescara. Partiamo da Penne, otto assunzioni e minore pressione fiscale. Dopo quasi 20 anni il comune ha la possibilità di prendere il nuovo personale, l'assessore al bilancio Gilberto Petrucci dice aiuteremo le famiglie con redditi bassi, con disabili o minori in affido. Vediamo poi più in basso, da Penne ci spostiamo in Val Pescara a Popoli, sorgenti del Pescara. Sarà un 2019 di eventi, la riserva punto di riferimento per convegni scientifici, spettacoli teatrali e visite di scuole. In basso siamo a Manoppello, il coro di Santa Maria Arabona ha il suo nuovo direttivo. Proseguiamo, lasciamo pescare la sua provincia, ci spostiamo a Chieti. La storia di Capodanno, una storia fortunatamente a lieto fine, due notti nel ghiaccio ma sono salvo. Il racconto dell'escursionista bloccato al bivacco Fusco sulla Maiella a 10 gradi sotto zero ha avuto paura, sopravvissuto. Grazie all'esperienza. Vedete la foto del bivacco Fusco letteralmente ricoperto e circondato dalla neve. Vediamo poi in basso, webcam a Passo Lanciano, lo spettacolo della neve in Times Please, attivata la nuova telecamera in montagna, montagna che dovrebbe accogliere tanta neve nelle prossime ore, come detto, per l'arrivo di questa ondata di gelo che investirà anche le zone di pianura e le coste. Il piano del comune, siamo a Chieti, l'intervista con il primo cittadino, il sindaco di Chieti Umberto Di Primio. Chieti riparte l'anno dei grandi cantieri, il sindaco promette una svolta nel 2019, dice prenderà forma la città del futuro, ma annuncia il taglio dei servizi necessario per gestire il disavanzo dei conti. Stadio a pezzi, pronti 100 mila euro, questo è il titolo della parte bassa della pagina, parliamo dello stadio Guido Angelini di Chieti, approvate le richieste di Febbo e Vitale, fondi che serviranno per lavori nel sottopasso allagato e negli spogliatoi. Siamo alla pagina della provincia di Chieti, siamo nel Vastese, a Vasto in particolare, autobrucia per un petardo, furgone a fuoco sulla costa, ancora Vasto, differenziata ferma, Vasto al di sotto della quota di legge per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Ancora Vasto, ecco Aurora, è la prima nata in provincia, è venuta alla luce all'ospedale San Pio da Pietrelcina, la piccola pesa 3 kg, è arrivata alle 9.47, il 2018, si era chiuso con Carmine, nato alle 13 e 13 del 31. Ancora la pagina della provincia di Chieti, Bar Bruno, siamo a San Salvo, addio ai clienti, dopo 54 anni di attività, arriva la pensione, lo storico esercizio pubblico, chiude i battenti, il fondatore Giovanni, tanti sacrifici qui dentro, era la nostra seconda casa. Siamo a Monteodorisio, verso le regionali, di Giacomo, di Forza Italia candidato, un sindaco con i cittadini. Vediamo poi a centropagina, ci spostiamo a ancora, restiamo ancora a Monteodorisio, una notizia che riguarda il fulmine sulla chiesa, lesioni e danni. Oggi ci sarà il sopralluogo e poi a Pollutri investì la cronaca giudiziaria, investì mortalmente una donna assolto, buio e vestiti scuri coprirono la sagoma della vittima. L'avvocato Ceri, sentenza giusta. Andiamo avanti per vedere anche a vasto il rito del tradizionale bagno di Capodanno. Vedete nella foto, in tanti hanno deciso di fare un bagno nelle acque gelide di Evasto, proprio nel primo dell'anno, così come è stato anche a Pescara e in altre città. Siamo alla pagina di Teramo, sempre dalle colonne del centro, il sistema Gran Sasso, l'inchiesta Acqua da Ruzzo, Reti e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Inefficienze e negligenze. Le accuse del Noe nell'ultimo rapporto alla Procura, l'acquedotto non ha investito sulla sicurezza e sui laboratori non hanno limitato le sostanze pericolose e radioattive. Una scelta scellerata è spiegato nel rapporto presentato dal Noe dei Carabinieri alla Procura della Repubblica di Teramo. Vedete poi di fianco questo altro articolo in grigio, ci sono dieci indagati per inquinamento. In basso parliamo invece di azione popolare che raggiunge 2.500 adesioni, continua anche a Capodanno la campagna del Comitato che vuole la chiusura del laboratorio. Proseguiamo con un'altra pagina, siamo a Teramo, ricostruzione e cambio all'ufficio speciale, Via d'Alberto, al suo posto c'è in Rivera, il direttore generale della regione sarà solo un reggente. Con lui ci sarà Miss Antoni del Genio Civile e Iovino della Protezione Civile. Gli sfollati, speriamo non sia solo un cambio di poltrone, il portavoce dice sconcertati dai continui avvicendamenti. In basso gli architetti, la politica ignora i tecnici, l'ordine degli architetti annuncia battaglia, ora si vota in regione, se non ci ascoltate voi ci faremo sentire. Noi andiamo ancora avanti, siamo un'altra pagina della provincia di Teramo, ci spostiamo sulla costa, Silvi, il mistero dei segnali stradali finiti a terra, non ci sono stati eventi atmosferici che li hanno fatti cadere, si tratta forse di un problema di scarsa manutenzione. E poi da Silvia Pineto realizzate tante opere con i fondi dell'ENI, lo dice il sindaco di Pineto, Robert Verrocchio. Siamo ad Atri, concerto di Capodanno oggi nel teatro comunale e poi area manina protetta, nuove guide del Cerrano sono state nominate negli ultimi giorni, si tratta di nuove sedici guide che lavoreranno proprio nell'area marina protetta del Cerrano. Restiamo ancora sulla costa, sempre nel Terramano, in questo caso ci spostiamo più a nord al Roseto degli Abruzzi, sì ai muti per le piccole opere pubbliche e tra i lavori finanziati, nuovi loculi al cimitero e la riqualificazione del tratto terminale di via Taulero. In alto spettacoli, giochi e dolciumi per la Befana e poi alla scoperta della flora del Borsacchio, sempre a Roseto degli Abruzzi. In basso invece si parla di circolazione stradale, auto dei vigili come sparti traffico lasciata all'incrocio tra via Polo e la strada statale sedici per far rispettare il divieto di svolta. Siamo alla pagina dell'Aquila, dunque ci spostiamo nel capoluogo di regione nell'Aquilano, il veglione è finito male, momenti di panico, troppi in discoteca, la polizia la chiude, stoppa le danze all'hotel Cristallo dopo la denuncia di chi era rimasto fuori, pur avendo preso i biglietti in prevendita. E poi in basso progetto per il ritorno della scuola dei Gesuiti, l'idea di padre Giuseppe De Gennaro, l'ultimo rimasto in città, in compagnia, in città per quanto riguarda la compagnia di Gesù dopo il 2008. Torniamo un attimo in alto, qui nella parte alta della pagina, un titolo che riguarda il Gran Sasso, non si scia per il vento forte, il centro turistico, ma è l'anno, dicono, della riscossa dopo il vento, dovrebbe arrivare nelle prossime ore la neve. Siamo ancora alla pagina dell'Aquila sul centro, è Sara la prima nata del 2019, ecco qui il titolo in alto, i genitori della piccola hanno ricevuto in dono la maglia dell'Aquila Calcio. E poi capodanno al castello, flop su tutti i fronti, comune beffato, delusione tra la folla, la benda arriva dopo mezzanotte, saltano concerto e contro la rovescia, di Cosimo chiederemo i danni, niente fuochi d'artificio, vietati dal prefetto. E a San Silvestro c'è chi non ha festeggiato fine anno di lavoro per i Vigili del Fuoco, gli addetti del 118, sempre pronti ad aiutare gli altri. Proseguiamo, siamo nella Marsica per parlare di quello che è accaduto ieri con la scossa di terremoto di 4.1 della Scala Richter, epicentro proprio a Collelongo, terremoto, la Marsica piomba nella paura, aperta la scuola per accogliere residenti, in corso sopra luoghi, ad Avezzano evacuate 2.000 Spettatori, dal cinema, intanto i precedenti in questo articolo, analogo sisma, 4 anni fa registrato in mezzo al Fucino e proprio dopo la scossa di ieri sono stati ispezionati viadotti, autostradali e ferrovie, strada dei parchi, esclusi dice problemi su A24 e A25, rete ferrovie Italia blocca per alcune ore la circolazione dei treni, controlli proseguiranno e andranno avanti anche nella giornata di oggi, ma come detto fortunatamente non ci sono stati danni a persone o cose. Siamo arrivati dunque alle pagine dello sport del centro, ma dobbiamo andare a vedere, lo faremo tra qualche istante, le pagine interne dell'inserto Abruzzo del Messaggero e poi del quotidiano La Città. Ora ci fermiamo per qualche istante e poi torneremo in studio per la seconda parte di mattino 6. Ed eccoci di nuovo in studio, la seconda parte di mattino 6, siamo alle pagine interne dell'inserto Abruzzo del quotidiano Il Messaggero, pagina 2 si parla dello stop ai rincari su strada dei parchi, strada dei parchi che blocca i rincari ma salta la trattativa e poi a centro pagina vacanze in montagna, alto sangro, sold out fino all'epifania, gran festa sulle piste. Campo Imperatore per la prima volta, vedete il titolo nella parte bassa della pagina, tutto esaurito. Andiamo a vedere la prossima pagina che ci porta a Pescara, la notizia di cronaca che arriva da Città Sant'Angelo, vuola giù dal balcone mentre brinda, paura per un 22enne e grave in ospedale per i traumi nella caduta dal secondo piano. Vediamo poi a centro pagina Cuzzi che pienone con J-Ax e Silvestri, festa doppia a Pescara nei concerti di Capodanno e del primo dell'anno. E poi Adriano e Mohamed ultimo e primo nato a Pescara e poi l'Errito al Ponte del Mare per non dimenticare in 120 a nuoto e di corsa nel nome di chi non c'è più. No all'archiviazione su Rigopiano, il comune di Farindola presenta opposizione alla richiesta che escluderebbe responsabilità dei vertici della regione. Nell'azione si evidenziano la questione della carta valanghe, i ruoli dell'allora presidente D'Alfonso e della protezione civile. Leggiamo qui dai titoli del quotidiano il messaggero. Fronte del porto, vasca di colmata, parliamo del porto di Pescara, proroga di un anno ma lo svuotamento si farà per febbraio. Andiamo avanti, siamo all'Aquila, anche il territorio aquilano avrà la sua moneta parallela e il comune reperirà un operatore per dare il via alla sperimentazione. Al momento la valuta sarà utilizzata solo tra le imprese, poi sarà estesa agli altri. Masciovecchio e di Benedetto tra i candidati per quanto riguarda le regionali. E poi cultura, soldi dalla regione salvo il centro di cinematografia dell'Aquila. In diretta Rai la messa dell'Epifania alle Anime Sante, la chiesa riaperta poche settimane fa nel giorno della visita all'Aquila del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E vedrà proprio la diretta Rai per la messa del 6 gennaio. Andiamo a vedere la prossima pagina, siamo ancora all'Aquila, rabbia in quota e flop in centro. Questo è il titolo di pagina 41 del messaggero. San Silvestro da incubo sul Gran Sasso, mille al Veglione ma tanti restano fuori al gelo e intervengono le forze dell'ordine. La cover band di Vasco Rossi non si presenta al castello. L'assessore di Cosimo, costernata, possibile richiesta di danni. Fiocco Rosa, la benedizione delle 19, Sara è la prima nata dell'anno. E poi con le Maggio, la magia dell'organo. Andiamo avanti, siamo invece a Sulmona, furbetti del cartellino 8 procedimenti. Il Comune ha attivato l'iniziativa disciplinare nei confronti del primo gruppo di dipendenti per i quali c'è il Giacus della Procura. E poi Avezzano, Donatelli, Confcommercio, i saldi siano controllati. E poi Roccaraso, la polizia di Stato, a lavoro sulle piste innevate. Andiamo a centropagina. Sulmona, religioni mixed, gran successo del concerto. E poi invece di nuovo nella Marsica. Avezzano, la celanese Caterina, prima nata in Abruzzo. E poi ex parlamentare Verrecchia, non sposate la colizza. E poi ancora Avezzano, i cinesi sold out nei ristoranti e fuochi. Siamo a Chieti, Capodanno senza eventi, tante accuse e polemiche. Questo è il titolo di apertura che riguarda il capoluogo teatino. Neanche stavolta i teatini hanno potuto assistere ad un evento per brindare al 2019. Il sindaco si difende, inutile spendere soldi per show non paragonabili a quelli di Pescara. I 30 anni di Diorio e i suoi presepi artistici, brum di presenza a Natale, la mostra fino all'epifania, all'ingresso del liceo Vico. La storia di fine anno, bloccato dalla neve e dalla nebbia, salvato dall'elicottero, un escursionista abruzzese, rimasto bloccato proprio alle pendici della Maiella. Siamo in provincia di Chieti, botti, auto in fiamme e gatta uccisa. Renault 4 distrutta da un incendio provocato da un petardo. E poi, in mare sfidando il freddo per salutare il nuovo anno a Vasto, vedete l'articolo con il corredo di foto. E poi il lieto evento a Vasto e la piccola Aurora, la prima nata del 2019. Andiamo a vedere più in basso, ferì un coetaneo dopo la festa, 21enne, lascia il carcere a Lanciano e poi ancora a Lanciano, variante al piano regolatore, crescono i malumori, suicidio, rinunciare alla Val di Sangro. Restando nella città frentana, concerti di Capodanno, oggi al Fenaroli con l'esibizione dei giovani abruzzesi. Proseguiamo, ci trasferiamo a Teramo in 5.000 a cantare con Ermalmeta in piazza, il vincitore di Sanremo in fiamma alla platea nel concertone di Capodanno, il sinico d'Alberto Brinda sul palco. Funziona il sistema dei controlli e a Pietracamela fiaccolata sugli sci, proprio sulle piste di Prati di Tivo. E poi Università, record di iscrizioni per la seconda laurea all'Università di Teramo. In basso, vediamo la parte bassa della pagina che riguarda il capoluogo a Prutino, riportare la cultura nel perimetro dei centri terremotati e l'obiettivo di Abruzzo, circuito spettacolo, le marche si stanno già muovendo, non si deve tardare. E poi il fiocco azzurro in città e Angelo, il primo nato a Teramo. Andiamo a vedere la prossima pagina che riguarda la provincia di Teramo, il tuffo dei 43 Babbi Natale in mare. Siamo a Giulianova, turisti e giuliesi in costume ieri sono entrati in acqua sfidando sia il freddo sia il gelido vento di Tramontana. E poi vediamo un altro titolo, si butta dalla finestra in piazza commercio, pensionato muore davanti ai passanti a controguerra. Giulianova, crisi e locali inagibili sul corso del lido, boom di chiusure di negozi e boutique. Siamo arrivati alle pagine dello sport, dobbiamo attendere ancora per parlare di sport perché dobbiamo vedere il quotidiano La Città dove si parla pagina 3 dello stop temporaneo per il caro pedaggi. Vedete il titolo di apertura, strada dei parchi sospende di sua iniziativa il rincaro previsto per inizio anno in attesa di un nuovo tavolo di lavoro. Paura nella Marsica per una scossa di terremoto di magnitudo 4.1, abbiamo visto anche prima sul centro e sul messaggero. E poi in basso si parla di bilancio della Regione, approvati il bilancio e la legge di stabilità 2019-2021, sia il sì, arriva in extremis ed evita il rischio dell'esercizio provvisorio per la nostra Regione. Cambio al vertice della ricostruzione, una terna al posto di D'Alberto Lusdre, il direttore generale della Regione Rivera, affiancato da Misantoni e Iovino. Vediamo poi in basso Angelo il primo terramano del 2019 e poi ancora Salvini ritorna a Teramo dopo il nevone, la visita istituzionale del Ministro dell'Interno prevista per la mattina di sabato 5 gennaio, quando dovrebbe essere passata la parte più importante della perturbazione che prevede neve sulla nostra Regione da domani nella giornata di venerdì. Vediamo poi il prossimo titolo che ci porta in basso, polemiche dentro Fratelli d'Italia per la candidatura di Marco Marsiglio, Benigno Donazio teme un morra a due, la vendetta per Marilena Rossi l'avvocato è solo alla ricerca di un posto al sole, dunque polemiche all'interno di Fratelli d'Italia. Un Natale così non si ricordava da anni, siamo ancora a Teramo, alla vigia dei saldi di fine stagione i commercianti terramani tracciano il bilancio delle feste della rinascita. Lavori programmati, lavori dell'Enel in centro, sospesi per l'allerta freddo, come detto, previsto per le prossime ore. E poi il Capodanno, Teramano, migliaia di fan restano fuori per Ermar Meta, a pienone al concerto di Capodanno, file Varchi anche al concerto iniziato per il vincitore di Sanremo. Vedete nella foto quanta gente a Teramo ha seguito il concerto del cantante italo-albanese. Proseguiamo, vediamo anche in quest'altra pagina le foto del concerto di Capodanno, e brindisi con pizzica, taranta e saltarello. Il Capodanno, Teramano, è stata la serata con minore afflusso, nonostante la capienza della piazza, fosse stata aumentata a 5.000. E poi scatenati in piazza con Cristina D'Avena, ancora il Capodanno, Teramano, la cantante dei cartoni animati, con i Gemboy, Manda Invisibilio, i 4.000 fan grandi e piccini. Dunque tanti concerti a Teramo negli ultimi giorni, tra il Capodanno, la notte di San Silvestro e il Capodanno. Siamo alla pagina della provincia, parziale bocciatura per la legge Sana Garage. La Corte Costituzionale chiarisce che la norma non tiene conto delle zone ad alto rischio idrogeologico. E poi, garanzia lavoro, fondi esauriti, chiude la linea 2 dell'avviso, boom di richieste di assunzione da parte delle aziende abruzzesi. In totale sono a disposizione circa 12 milioni di euro. La manovra in arrivo, 2 milioni e mezzo di euro per le manutenzioni, finanziamenti per scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio culturale per 40 comuni della provincia di Teramo. E poi la fiaccolata dei Prati rivive per il rilancio della stagione sciistica, la tradizionale fiaccolata di inizio anno sulle piste di Prati di Tivo. In basso siamo alla manovra, nella manovra del governo c'è anche la norma per sostenere i giovani meritevoli. L'onorevole 5 Stelle Berardini, soddisfatto per la legge che aiuta i laureati con 110 e lode e i possessori di un dottorato di ricerca. Proseguiamo, siamo alle pagine della provincia di Teramo, siamo in Val Vibrata, Controguerra muore per una caduta dal balcone di casa. Tragedia di San Silvestro nel centro di Controguerra, 68enne perde la vita dopo aver battuto la testa. Martinsicuro disponibile calendario della raccolta, ma solo per i primi tre mesi, parliamo della raccolta dei rifiuti. Ancora Val Vibrata dalla provincia, attenzione per tutto il territorio, lo dice il presidente della provincia Diego di Bonaventura, che risponde alle critiche del coordinamento PD. Siamo alla pagina di Giulianova e Mosciano, Mosciano Sant'Angelo ratificata la risoluzione per l'acqua viva, il Consiglio Comunale di Mosciano vota all'unanimità la rescissione dell'accordo. Lutto a Giulianova che piange la scomparsa del dottor Gianfranco Garosi. Ancora Giulianova ha pubblicato il bando per la fornitura dei libri scolastici in basso. Ancora Giulianova in 43 sfidano il freddo per il bagno di inizio anno, tanti bagni di inizio anno in tante zone della nostra regione. Siamo a Roseto degli Abruzzi, anche Roseto batte cassa al Ruzzo, il sindaco di Girolamo fa sapere che il credito da 2 milioni sarà pagato a partire dalla prossima primavera. Da Roseto ad Atri il concerto di Capodanno anticipato a questo pomeriggio nel teatro comunale. Andiamo a vedere anche la prossima pagina. Siamo sempre a Roseto, approvati mutui chiesti dal Comune, via libera dalla Cassa Depositi e Prestiti per i finanziamenti avanzati dell'assessore Simone Tacchetti. Vediamo poi la parte bassa della pagina, fondo pagina. Silvi, gran successo per il concerto di fine anno. Tante persone all'evento che si è svolto nella chiesa dell'assunta di Silvi. Pagine della cultura, il ritorno di Mary Poppins domina il botteghilo. In tanti si sono recati al cinema per vedere il film di Mary Poppins, di questa donna con poteri magici. Siamo arrivati allo sport, allora possiamo ripartire dalle prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. La Gazzetta dello Sport, il titolo principale riguarda Cristiano Ronaldo, che mi prendo tutto, dice il campione portoghese. Sesto pallone d'oro per diventare il re del millennio, ma niente ossessioni. Il brindisi con Georgina e gli amici negli Emirati Arabi. Schumi amico mio, Todd racconta Michael Schumacher, 50 anni domani. Vedremo ancora tanti gran premi insieme. L'ex capo della Ferrari svela tanti retroscena sulla Formula 1 e sul fuoriclasse tedesco, che si sta riprendendo da un grave incidente. Si parla anche di calcio mercato. Sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport e non sono, da domani il via alle trattative. Spalletti riparte, avrà un regalo, Romero e Todibo. Sfida Inter-Juve. Milan partite aperte, Gabbiadini sensi e i dubbi. Di Gattuso, intanto, primo botto di Capodanno per la Fiorentina, arriva infatti Muriel. Vediamo il Corriere dello Sport, la mia Italia. Roberto Mancini, nell'intervista in esclusiva al Corriere dello Sport, rivela il retroscena e le novità della sua nazionale. E intanto, Ronaldo senza limiti, il portoghese della Juventus pronto a trascinare i bianconeri alla conquista della Coppa dei Campioni. E poi, altri titoli, Muriel Viola arriva e firma, rinnovo i cardi, l'Inter trema. Vediamo tutto lo sport. Juve 2019 Delight dovrebbe essere il nuovo acquisto della formazione bianconera. Andiamo a vedere le pagine dello sport del quotidiano Il Centro. Ecco qui la prima pagina, aumentano gli spettatori. Siamo in Serie A grazie all'effetto Ronaldo. La Juventus richiama negli stadi maggior numero di tifosi avversari. La media è di 25.500 paganti. L'Inter conferma il primato in casa con una media di 62.281 spettatori. Per meglio precisare, sono proprio le due milanesi le squadre che portano più tifosi allo stadio. E domani il via al mercato di gennaio, la punta Muriel della Fiorentina, il Milan, piomba su Gabbiadini e Sensi. Vediamo la pagina che riguarda il Pescara. Mancuso come la padula ed immobile, il capocannoniere del Pescara in vetrina al termine del girone di andata. L'atteccante di origine milanese, una media gol simile agli ex grandi bomber dei Biancazzurri. Vedete in foto proprio Mancuso. Il 26enne a giugno tornerà la Juventus per fine prestito, ma se dovesse arrivare la Serie A con il Delfino sarebbe bellissimo poterla vivere. Con addosso questa maglia ha detto tutto Mancuso. E intanto il tecnico del Pescara Pillon si gode la nipotina in Veneto prima della partenza per le vacanze. Vediamo anche in basso l'articolo che riguarda il mercato, perché il Pescara è proiettato proprio sul mercato. Bisognerà cedere qualche giocatore, sfoltire un po' l'organico, ma anche puntare ad un paio di arrivi di spessore. Parte infatti la caccia alla punta, invece il Cosenza vuole del sole, fari sui Bebi Rossi e Scamacca in entrata. Il Fantasista del sole piace ai calabresi, andranno via Fornasier, Cocco e forse Monachello. Vediamo anche l'agenda bianca-azzurra, perché come detto ora ci sono le meritate vacanze per tutti. Il Pescara con il campionato di Serie B tornerà in campo domenica 20 gennaio alle 21. Dunque primo posticipo del nuovo anno per il Pescara, che alle 21 allo Stadio Adriatico affronterà la Cremonese. Una settimana dopo, sempre di domenica alle 15, si giocherà all'Ardenza Livorno-Pescara. E poi il 3 febbraio, sempre alle 21, sempre allo Stadio Adriatico, si tornerà a giocare con un'altra Lombarda, il Brescia. Questo sarà un po' il big match della giornata. Poi domenica 10 febbraio alle 15 si giocherà l'attesa sfida, il derby Foggia-Pescara. Lunedì 18 febbraio alle 21, tanto per cambiare il posticipo del campionato con i bianca-azzurri impegnati all'uscita di Crotone. E poi il 23 febbraio alle 15 di sabato, una volta tanto e Pescara tornerà a giocare di sabato alle 15, ci sarà la gara casalinga con il Padova. E poi c'è l'oroscopo degli sportivi. Noi parliamo del Teramo e del colpo importante in entrata per la formazione bianco-rossa. È fatta per Giorgi, il diavolo prende l'ex Ascolano e attende l'arrivo di Costantino del Sud di Tirol. Sud Tirol ultimo avversario dei bianco-rossi. Costantino era in tribuna in partenza dal Teramo, Bacio Terracino e Piccioni, che sono ormai al passo di addio. Vediamo anche nella parte centrale della pagina il basket di Serie B, sponsor etico e marketing. L'amatori continua ad espandersi, l'amatori Pescara. E poi la teata e guarda avanti, Coen a Civitanova per vincere. E poi l'Adriatica Press Teramo, il presidente Ruscitti. Spero in un buon 2019 mi aspettavo un torneo migliore. E siamo al calcio di Serie D, parliamo di Deramo, della grande chance del giocatore avezzanese, che lascia proprio i marsicani per approdare allo Spezia. Il 19enne di Archie, da tre anni in bianco-verde, passa la primavera bianco-nera, con la speranza di convincere Marino a portarlo in prima squadra in Serie B. Parliamo anche di podismo. Giovannangelo, Liberatore e la Petrei brillano alla One Run Rom, dunque abruzzesi protagonisti in questa importante manifestazione di San Silvestro. E poi fine settimana a tutto calcio a 5 nella nostra regione, con le finali di Coppa. Da venerdì a domenica a Pescara si assegneranno infatti i trofei di Serie C1 e Serie C2 maschile e di Serie C femminile. Andiamo a vedere le pagine dello sport del messaggero. Ripartiamo dal Pescara. Pescara scoppia la Mancuso mania. Vedete il titolo di apertura. Dopo la tripletta a Salerno i gol sono 19. Un attaccante vive proprio per quello. Qui probabilmente c'è un errore perché i gol sono 12, i gol segnati da Mancuso. Il suo cartellino è già della Juventus. Una sola chance per trattenerlo andare in Serie A. Pescara, lo ricordiamo, secondo in classifica dopo la vittoria di Salerno, a pari merito con il Brescia. E intanto per il mercato, se parte Monachello, può arrivare Ciciretti, giocatore di proprietà del Napoli, ma che gioca con il Parma. E dunque Pescara ha proiettato sul mercato. Ci saranno anche delle cessioni quasi certe, quelle di Cocco e di Fornasier. Le tre certezze per il ruolo di vertice. Gioco classifica in Mancuso. I biancazzurri hanno ipotecato un ruolo da protagonisti. Come detto, si tornerà in campo il 20 gennaio con la gara a Casalinga alle 21 con la Cremonese. Dalla Serie B alla Serie C, dal Pescara al Teramo. Costantino e Bianchimano. Teramo cambia l'attacco. I due rinforzi in arrivo dal Sud Tirolo e dal Perugia. Bacio Terracino ai saluti. Per lui possibile scambio con i grifoni. Altre pedine per difesa. è centrocampo e c'è anche il bilancio per il Teramo. Bilancio di fine anno con Maurizzi in panchina. Media punti migliore per la formazione biancorossa. Leggiamo un attimo questo approfondimento che riguarda proprio il Teramo. Per i biancorossi, quella contro il Sud Tirolo, è stata la quinta vittoria in campionato con la squadra di Maurizzi con una media punti che sotto la sua gestione è salita a 1,35. E se oggi fosse finito il campionato, il Teramo sarebbe salvo con i suoi 23 punti ed il tredicesimo posto. Ovviamente, scrive l'articolista che tra l'altro è la nostra Ania Cantagalli, l'obiettivo è essere salvi il 5 maggio quando si chiuderà il campionato. Dalla Serie C alla Serie D, il notaresco, la salvezza è stata raggiunta. Il sorprendente cammino del team di Cudini dopo l'andata, squadra che era partita davvero con la quarta, 5 vittorie nelle prime 5 gare, poi un rallentamento, ma sicuramente il bilancio della formazione del presidente Salvatore Di Giovanni e del tecnico Mirko Cudini è a dir poco positivo. Giulianova, reali, i tempi sono stretti per l'arrivo di un giovane portiere. E poi l'Avezzano, siamo sempre alla Serie D, monte stipendi di Mezzato e ora arriva il Cesena, ci sarà la gara esterna, per meglio dire, al Manussi, con il Cesena, una gara di prestigio per la formazione bianco-verde. Siamo a un'altra pagina di sport del Messaggero, Tegolas il Sulpineto si infortuna Marianeschi, questa è una brutta notizia per il tecnico Amaulo in vista della ripresa del campionato. E poi vediamo il volley, Sieco con la Videx per il quarto posto, è decisiva la partita di domenica prossima, con i marchigiani bisogna sostituire Zanettin e cercare un opposto di riserva. Parliamo anche di pallannuoto, Pescara società più forte, entra Cerasoli, il Settebello tornerà in acqua il 12 gennaio, Pescara che lo ricordiamo milita nella Serie A2 maschile di pallannuoto. Parliamo anche di rugby, l'Aquila Anibaldi nominato nuovo presidente della società reggistica aquilana e poi un titolo che riguarda l'atletica, a gennaio ricominciano le gare al Via con il campionato di cross e chiudiamo con le pagine dello sport del quotidiano la città prima di salutarci. Teramo scatenato, bacio va Costantini, c'è la gara di domenica segna il cambio della guardia in attacco, arrivano anche Bianchimano e Giorgi. Dunque Teramo che cambia volto in questo mercato, leggiamo anche questi risvolti che riguardano proprio la società bianco-rossa, reparto ricostruito, oltre a bacio Terracino andrà via anche Piccioni che domenica non era neppure in panchina con il Sud Tirol, Maurizio ha chiesto espressamente anche l'attaccante ex reggina secondo lui compatibile con Costantino e poi l'ex centrocampista dell'Ascoli, ovvero Giorgi è svincolato e porta in dote un bagaglio di esperienza nella zona mediana. Vediamo anche che cosa è successo nell'ultima giornata di campionato con la vittoria del Teramo con il Sud Tirol, il rinvio della gara Rimini-Ternana e poi Gianni Arminio Vicenza 0-1, Ravenna Gubbio 0-2, Feralpi Salomonza 0-0, Ispesaro Tristina 0-1, Renate San Benedettese 1-1, Fano Pordenone 0-2, sconfitta casalinga per il Fano del Pescarese Epifani, Albino F Imolese 1-1, Virtus Vecomp Verona, Fermana 0-1. In classifica, lo vedete, il Teramo ha 23 punti e sarebbe salvo se il campionato, come dicevamo prima, fosse finito oggi. Vediamo anche la prossima pagina dello Sport del Quotidiano, la città, il settore giovanile, l'anima della società. In questa lunga intervista parla il direttore generale del Giulianova Basket, Nicola Sacripante, che fa il bilancio di fine anno e parla delle prospettive per il 2019. In basso parliamo dell'altra squadra di serie B maschile, l'Adriatica Press Teramo, che si è giudicata il derby con Campli dopo una settimana travagliata, è arrivata la risposta migliore proprio dal parquet con i biancarossi tornati al successo. E siamo così giunti al termine dell'appuntamento di oggi, di mercoledì 2 gennaio, con Mattino 6, che tornerà domani ovviamente come sempre puntuale alle 8. Io ringrazio voi per averci seguito, ringrazio Claudio Di Giacomo in regia, vi rinnovo gli auguri di un buon e sereno 2019, vi do appuntamento alle 14 per la prima edizione del TG6. Buona giornata. Grazie. Grazie.